L'obiettivo è quello di aumentare sempre di più la sensibilità verso queste tematiche perché comunque vediamo che nella società c'è il rischio di un oscurantismo, di un egoismo più esagerato perché comunque quando ci sono crisi economiche la gente si dimentica che forse abbiamo bisogno di essere più solidari e più attenti ai bisogni dell'altro. Si torna a scuola di diritti all'interno del carcere San Benedetto di Arezzo dopo l'esperienza dello scorso anno che aveva visto coinvolti agenti di polizia penitenziaria, personale delle altre istituzioni e volontari che operano all'interno della casa circondariale a Eretina. Adesso l'iniziativa si allarga da altre realtà della regione toscana. Il nostro proprietario regionale ha ritenuto di poterlo estendere anche alle altre direzioni e quindi hanno trovato un interesse in questo corso e effettivamente sono venute persone, operatori, agenti da altri istituti, questo ci fa piacere. Il corso di formazione sui diritti umani e sulla legalità nasce per volontà della direzione dell'istituto Aretino. È giusto che il personale si aggiorni e colga queste occasioni per crescere, per avere la massima attenzione a quelli che sono i bisogni, che le persone detenute hanno maggiori necessità di avere questo tipo di attenzione in quanto certamente la loro libertà è ridotta rispetto alle persone fuori. Per i partecipanti penso che innanzitutto sia una grande crescita personale, un confronto, sia anche mettersi un po' in gioco rispetto alle proprie idee e soprattutto sia anche un momento di grande condivisione, di condivisione sugli aspetti generali che comunque poi riguardano sia l'ambiente carcerario ma che riguardano tutta la comunità. Noi siamo stati chiamati dal carcere per tenere una parte di queste elezioni, noi siamo l'associazione culturale del Bangladesh, ci occupiamo di diritti e tutela soprattutto dei cittadini migranti ma non solo. Ci dedicheremo a quelli che sono i diritti umani appunto nel carcere e anche diciamo a diritti riconosciuti anche a livello internazionale ed europeo e diciamo nel pomeriggio ci dedicheremo un pochino più a quello che è proprio la detenzione delle persone straniere, quindi legato più a questo particolare insomma detenuto. È diciamo un confronto tra chi lavora tutti i giorni e noi che magari invece occupiamo più di tutela di diritti insomma.